E' stato intitolato questa mattina Rocco Giuliano l'auditorium della sua scuola media, la scuola media che lui ha voluto come sindaco. Rocco Giuliano è venuto a mancare due anni fa, era il 31 maggio del 2020. A distanza di due anni l'inaugurazione di questo auditorium, tante le personalità presenti per onorare il sindaco di Polla e il sindaco dell'agenda, come c'è scritto su questa insegna. Per me è una forte emozione, anche perché sicuramente non sta a me elogiare mio padre, perché qualsiasi figlio, qualsiasi ruolo riveste il padre, penso lo porti come esempio e lo elogi. Però posso assicurare che mio padre, in generale per Polla, ma per questa scuola ci teneva tanto. Infatti le ultime sue telefonate prima dell'operazione furono proprio raccomandando ad allora suo vice sindaco, oggi sindaco Massimo Loviso, che c'erano delle scadenze imminenti da rispettare, perché se no saltava tutto. Quindi sono orgoglioso che proprio questo auditorium venga intitolato a lui, come me tutta la mia famiglia. Mi scuso ancora per la voce, però... Grazie.